Buonasera a tutti su Cici! Oggi io starò dietro le quinte e Cecilia farà il video dei suoi regali Cecilia ha detto anche Cecilio Per gli amici Facci vedere perché siccome vi piace tanto ha detto faccio il video io e faccio fare il video anche a Ceci Vai Ceci! Allora Iniziamo con il cibo Perché a quanto pare i miei amici mi regalano un sacco di cibo Questa è la calza Kinder Devo farla vedere? Ci valserà un po' perché tu non vedi lì la quadratura ma io sì Contiene questa roba qua Di tipo che questo e questo lo mangio io No, è mio, l'hanno regalata bene, è mio Bene Questo si chiama con il lecca lecca Scusa non ci dite il nome degli amici Ah devo dire anche il nome Eh no guarda Chi me l'ha regalata? La Sara, me l'ha regalata la Sara La Sara Che vieni con me all'università Ok Ok Lecca, lecca Alla venta Sempre Sara? No Chi nomi? La fatta Alessandro Ma Allora voglio dire Quello che ti ha fatto Che te lo voglio uno? Questi sono tre Prendi quello di questo Questo voglio No, quello di questo Ma io voglio quello di questo Allora Ti sto offrendo quello di questo Accetta l'offetto Vieni Poi Una tazza A forma di Che pelosa A forma di Puppazzo di neve Puppazzo di neve Puppazzo di neve E notare il cappellino Il cappellino La cosa più cica di tutte Molto Fatto da Giada La mia amichetta Quella che parlo sempre di video Giada, Giada, Giada La mia amichetta Serve Giada Poi Facciamo questi dai Ok Simone il suo fidanzato Che è quello che vogliono sapere tutti Gli ha regalato Ok Non riesco a prenderli Ok Hip hop Funko Che per chi non sapesse cosa sono Sono dei Le statuine Allora abbiamo Mulan E poi abbiamo Ghost O meglio conosciuto come Spettro del trono di spade Già che ci siamo Faccio notare le collezioni da completare Simone guarda Ne mancano Mushu E Cricket E poi tutti questi Faccio notare Vabbè molti cani Due sono tanti Poi quest'anno abbiamo ricevuto Un sacco di cover E non so proprio da chi Va Sono la mia sorella Lo sanno che sono io L'ha detta la cover Era triste Cioè ne avevo solo due Aveva il suo telefono Era tristissima Ne avevo tre Eh scusami Era veramente una cosa triste Abbiamo un Stitch Che le archiette così open E di che telefono hai? L'S7 Samsung Galaxy S7 Esattamente Palese Palese Io questo non lo voglio togliere Da copertino No Lei li legali le cose Le tine le immacolate Poi ci trovi la muffa sopra Un'altra list Trasparente Molto carina Molto carina Molto carina Molto carina Questa mi rispecchia particolarmente No E lei quando l'ho vista Ho detto L'assuma Non potevo no Questa è stupenda Tipo la cercavo da tre anni Questa gliel'abbiamo fatta a fare noi La fatta apposta Apposta Perché lei ugualeva di legno Con una mappa Quindi io ho inventato questo E poi Vabbè La tirerà fuori solo per adesso Ma poi la rimetto dentro Imbrazzante La come con lo squishy Sta spaccicando Si sta spaccicando Bene Perché la tua è lucida La mia era opaca Bene bene Ora vedi che si è già sporcata C'è l'impronta del mio dito Ma si si sporcano subito E quindi la rimetteremo subito dentro Quindi non la userei mai? Quando la userò Sarà quando avrò voglia Di pulirla la sera Cioè Mai Scusa Quella grande distizio Perché ancora non l'hai messa E che è enorme Appunto Appunto No vabbè Ma un giorno Quando userò le borse La metterò Ah perché adesso Finché non usi le borse La metterò No Vacciamo in magia Poi abbiamo Quello che hanno fatto anche a te Cioè La terghetta Con il nome Si che raga Mi correggo Scusate Alla fine Non avevo capito Una ceppa Neanche io Era tutta una messa in scena La mamma di Simone Mi ha fatto un cazzo Ce l'ha fatta la nostra mamma Questo Infatti l'ha fatta anche a lei Era tutta una tattica Per farmi Per darmi l'iPhone A sorpresa Guardate chi c'è qui con noi Stitch Stitch Ciao Vieni qua con noi Non salire Non salire Vieni qua con noi Ma loro vogliono vederlo Se lo servono Non funziona Loro vogliono vederlo Se tu non lo servono Lui non Oh salta Ciao 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 Stitch Vabbè continuiamo col video È una cosa Difficilissima Trovare Portachiavi O qualunque cosa Personalizzata Con il nome Cecilia Ma quanto sei bella Ma sei una merdaviglia Dici Cioè Tutte quelle che si chiamano Cecilia Conosceranno il mio problema No prego prego Questa è una sciarpa Fatta da Alberto Che il giorno prima mi è venuto Alberto Io so chi è Alberto Loro no Alberto è un amico Con cui andavo sempre al cinema Con cui ci vado È quello che è venuto con noi No In realtà è bella È visto È facile vedere bene È una sciarpa Aspettami qua È blu A parer mio È blu È elastica È morbidosa È calda È calda Che il giorno prima È venuta a chiedermi Vuoi un regalo bello O vuoi un regalo utile Quindi questo sarebbe Questo è quello utile Il regalo bello era uno shampoo Quindi ho fatto bene Ma anche lo shampoo è utile Sì ho capito Però questo dura Ma sei stata in bagno oggi? Sì Ma ti sei lavata Hai visto Mi lavo anch'io Si vede Succede Io mi lavo domani Vabbè continuo Va bene 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 Poi cosa abbiamo Abbiamo lo scaldacollo Dei Targaryens Per chi non lo conoscesse È lo stemma della casata Dei Targaryen Del trollo di spade Ovvero Game of Thrones Com'è lunga Aspettino la spiegazione Io sono Daenerys Targaryen Nata dalla tempesta madre Dei draghi Dei draghi Dei colcola Dei suddici Dei catene Dato una pappadetta Ci dobbiamo sempre Sussare Chi ha visto Game of Thrones Lasci Un mi piace Anche te Comunque questo Esatto Ti puoi lasciare Uno Comunque questo Perché lei va in moto E quindi abbiamo pensato Che Le facesse Me l'ha regalato La mamma Poi siccome Ha lo stemma rosso Capito Sterma rosso Giacca rossa Capuggetto rosso Comunque Vabbè Andiamo avanti Con Questa Questa è La facciamo vedere Solo da qui Perché non la tiro fuori Siamo avvicinati Si vede Si vede Questa è una scratch map Cioè è una mappa Di tutto il mondo E tu Ogni paese Che visiti Puoi andarlo a grattare Con la monetina In modo che diventi colorata Inizialmente È tutta marrone E poi Piano piano Con di tutti i paesi E diventa tutta colorata Bene L'attaccheremo Lì Ah è vero È un bel posto Per attaccare Anche perché non ha più pareti Molto bene E basta Questa stanza Non ha più pareti Ma Alberi 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 Andiamo Bebandora Che anche ceci Quest'anno Me ne hanno regalato Addirittura Tre Affiamanti Esatto Abbiamo Come faccio A fargli vedere Singularmente Facciamo così Guarda Abbiamo Questo di Stitch Lo vedete Si vede Riesci a farlo vedere Ora si Ora si Ora si Questo di Stitch Dove c'è scritto pure Ohana Che significa famiglia Famiglia significa che nessuno viene abbandonato Ho dimenticato Tra l'altro dal film di Stitch Da Disney E qua c'è anche Lilo E un fiore Bene Che è un quadrifoglio In realtà È un quadrifoglio Ne ha 5 di punte Come fate se è un quadrifoglio È un cinquifoglio E poi Insieme a questi due divisori Con i cuoricini intrecciati Fatti sempre dalla mamma Sempre dalla mamma Stava roba Sempre dalla mamma E poi abbiamo questo Questo è un divisorio con i piorellini Io come vedete li ho messi totalmente a caso Fatti dal Dai Vabbè non ci sta E poi abbiamo questa In ultima Ecco l'ultimissima arrivata Che è la casetta Si vede La casetta di Santa Qua c'è scritto Santa Sì Claus Santa Claus Fatta dalla mamma di Simone Esatto Mettiamo un po' così Ok Mettiamo via un attimo Stata qua Ok 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 Ce l'ho fatta Sarà bellissima L'ho messa via Allora E poi abbiamo Allora Questo Il vero pezzo fatto Lo lascio per l'ultimo Perché non l'hai visto neanche tu Neanche io No Poi vabbè Le mie amiche Le gemelle Che si chiamano Silvia e Miriam Ok Mi hanno fatto questo bellissimo quaderno Insieme a Dei calzini Rennosi Solo che Li ho già messi a lavare Quindi C'ho la foto di quei calzini rennosi E lei provvederà a mettervelo Lo metteremo qui Esatto Si Li mettiamo i volanti E mi hanno fatto anche questo quaderno Chimicoso Eh Vai avanti Ok Non capivo Questo chi me l'ha fatto? Questo L'ha fatta la mamma È palesemente un peluche di Lilo e Stitch No È palesemente un peluche di Stitch No di Lilo e Stitch Vabbè Ho capito Il film è Lilo e Stitch Tratto dal film Lilo e Stitch Ma Lilo e Stitch Ma va a cagare È Stitch Punto È gigante Stitch che si chiama come questo Stitch Ma questo è il vero Stitch Qua abbiamo un Stitch versus Stitch Bene E adesso abbiamo gli ultimi due pezzi forti Non so quale manderei per primo Ma manderò per primo questo Ok Questo Non voglio dove c'è Come era la Silvia? Questo È il Monopoly Di Game of Thrones Come potete leggere dal nome Questo è fatto da me Sì Da me Sì Con prezzo allegato ogni volta Dove? Prezzo allegato Ho aperto il pacchetto Cioè il peggio Non va niente Comunque è fatto da mia sorella Ci abbiamo giocato Ed è super divertente E ci ha fatto anche un mini video su Instagram Chi mi segue su Instagram L'ho visto Perfettissimo E adesso l'ultimo pezzo forte Questo è stato fatto dalla mia amica cinese Lin Che ha una rosticceria Si chiama Lin Lin è il cognome Si Lin è il cognome Si chiama Chang Di nome Ma la chiamano tutti i nomi Chang Lin Ling Chang 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 E se volete andare all'a rosticceria In Viateglia Se siete di Genova E guarda un po' Già che li siamo Si chiama rosticceria da Lin Guardate come cosa mi ha fatto Si vede? Si vede? Si vede L'ha fatto però l'ha fatto da solo Vabbè chi se ne frega Poi l'ha messo dentro la boccetta Dica ma tutta la boccetta con le stelline E ci ha bisogno di palline Che si muove Io dovrei appenderla all'albero Però se non lo appendo Lo metto lì Perché poi è fuori che cada C'è scritto anche auguri Ma il vero pezzo forte Che dicono a te l'iPhone E a Cecilia niente no? In realtà sono io la stronza Che è arrivata dopo Ah Quale è il mio pezzo forte? La moto La moto Bellino Non l'avevo calcolata A lei non ha regolato la moto Che ha parcheggiato qua sotto Ma se no vi metto una foto qua Da qualche fa Sì quella con me Quale è la moto? A me l'iPhone Mi sembra più che ecco Allora Il video degli regali di Cecilia È finito qua E li ho fatti vedere tutti Tutti E tante le mie calze natalose Che però se no Alla vale Quindi Cecilia vi augura Un buon capodanno Un buon inizio anno nuovo Perché lei la rivedrete Nel 2018 A differenza mia Che mi vedrete L'ultimo video uscirà al 31 E niente Ci fai un saluto a tutti quanti Ciao a tutti quanti Tanti auguri Ciao Devi dirlo a te E gli auguri Ciao Buon anno Buon genone Buon anno